Ecco, siamo arrivati anche in quel dibadia per un ciclo raduno. Buongiorno al mio amico Claudio. È una bella giornata, vero? Non c'è il vento di ieri? Eh, ha stancato. Hai visto i barbieri? Buongiorno Gianluca, siamo anche in quel dibadia. Siamo in quel dibadia, tre torri, sono tantissimo per noi, per l'enquistribere della squadra. Hai chiesto se c'era del buon latte? No, gli dici là a Corro, un amico che chiamava la ricettura. Ah, bombarda? Sì, Carlo Abadì ha trovato l'alizabetta, uno dei passionati di Castelbassio. Va bene, li riferirò, va bene. Eh, ha tirato i pensionati? Ha tirato i pensionati? Buongiorno. Buongiorno, una buona giornata. Siamo in un bel gruppo, un litro. Vieni. Siamo molto da guardo. Sì, siamo anche in quel dibadia, vero? Siamo a calci nelle cauccelle. Alla bravissima, la buona. Lei gira giusto. Siamo in un'amica. Tempo? Siamo. Barbieri. Buongiorno, una bella giornata. E ora ci contrasta come, si sapete. Sì, sai la bella giornata. Sempre ci stai aspettare. Beh, sarebbe ancora piùva. 그래. Grazie a tutti. Siamo pronti alla partenza, ciclo rotuno di patria. Grazie a tutti. Parti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutti addosso ai panini. Per cui alla prossima.